Raccontiamolo una volta per tutte come Minzo, il cane da guardia dei politici, il retrocenista più spavaldo del transatlantico, quello che si appostava nei portoni per strappare ai politici la confidenza e mandava lo sciagurato a notte fonda l'articolo alla stampa di Torino facendoci impazzire perché non arrivava mai, ma poi l'indomani l'ha smentita e lui confermo quanto scritto, insomma come quest'uomo sia diventato il direttore del Tg1 Augusto Minzolini con gli editoriali che ci ricordiamo. C'è stata una conversione, c'è stato un passaggio, un momento, ti sei innamorato di Berlusconi? Non è così, io non penso, io penso di essere sempre stato molto coerente, nel senso che questo lo dicono tutti, ma lo dico, nel senso che ero diciamo abbastanza controverso quando facevo il giornalista retroscenista e ho fatto la stessa cosa diciamo facendo il direttore del Tg1, probabilmente, nel senso perché ho dato un, ti dico che rifarei esattamente tutto quanto a cominciare dagli editoriali, tutti, nessuno escluso. E penso, ti ho detto che c'è, io ho sempre scritto quello che pensavo e ho detto quello che pensavo. Però è una strana idea del pluralismo, perché tu hai teorizzato che siccome c'erano vari telegiornali non berlusconiani, allora bisognava per pluralismo che ce ne fosse uno molto berlusconiano. Non hai detto facciamone uno equilibrato? No, ma io ho detto, ma per me è equilibrato, nel senso, visto che mi davano diciamo del fazioso, allora chiaramente, poi non so come è stata riportata, ma dicevo, ma io sono fazioso, allora se io vedo a vedere, non so, il Tg3 è abbastanza orientato. Io non dico che è fazioso, ma è orientato. Non so, Santoro, fino a quando ha lavorato l'Irai, era abbastanza orientato. Io non capisco per quale motivo rispetto a un telegiornale che era, in cui addirittura mi assumevo delle responsabilità, perché l'editoriale era anche un modo per dire, io la penso così. Ma figurati se mi preoccupo degli editoriali, io mi preoccupo del modo in cui davi le notizie o le tacevi. No, no, guarda, ma cosa tacevo? Ma scusami, tu immagini soltanto... Ne hai taciute parecchi. Ma guarda, ne ho date tante che ad esempio altri non hanno dato. Tutta la trattativa Stato-Mafia, prima che ci arrivasse Travaglio, un anno dopo, ho fatto 45 servizi. Diciamo che quelle scomode per il governo comparivano con molta fatica. Guarda, io sono lontano dall'ipocrisia, adesso infatti voglio chiedere anche a Bucchetti. Quando ti parlo della preistoria, andai io al Tg1, ritenni mio dovere dichiarare ai telespettatori il primo giorno... Guardate, voi sapete quali sono le mie idee, io ho un orientamento di sinistra, è giusto che voi le sappiate, facciate la tara, ne teniate conto, sappiate anche però che proprio questo mio orientamento mi porterà ad avere non solo il massimo rispetto, ma la massima curiosità per gli argomenti altrui, perché questa è la storia del Tg1. Tu invece hai fatto battaglia. Ma non ho fatto battaglia, perché ti parlo dell'inter... Faccio un altro esempio. Io ho fatto tutta una polemica, ma parliamo di... Ormai un anno e mezzo fa, due anni fa sulla vicenda del rapporto con la Germania. Ho fatto un editoriale sulle agenzie di rating, su quel... è fatto dei servizi. Cioè, io ho ragionato come se fossi, diciamo, il direttore di un giornale e quello che mi incuriosiva ho cercato, diciamo, di portare dentro il Tg1. E devo dire, se io poi... Non difendevi gli interessi di Berlusconi? Guarda, sai che cosa mi dispiace? Io ho avuto il telefono sotto controllo, no? Sai, la vicenda di Trani. Allora, non sono uscite fuori tutte le telefonate, perché io so quello che ho detto in quel periodo. Ci sono state due occasioni, e non ho sentito spesso Berlusconi, però in due occasioni mi ha chiamato per altri motivi. E io, sai, quando parli, una cosa... Stasera voglio fare un editoriale su questo. E lui, ma me lo ricordo come adesso, in quell'occasione mi disse, ma chi te lo fa fare? Ma lascia stare. Quindi te lo dico, guarda, è vero che ci sia. Un pass da run. No, un pass da run. Più Berlusconiani di Berlusconi stesso. No, ma tu poi... Io non so se Berlusconi la pensi in un modo o nell'altro. Io ho preso delle posizioni... Ti faccio... Ad esempio, ho fatto un editoriale sull'immunità parlamentare, che chiaramente non è mai stato un bagaglio di Berlusconi, ma io l'ho fatta. Io lì dicevo quello che pensavo. Oggi ha detto che bisogna ripristinare l'immunità parlamentare. Ha seguito Minzolin. Minzolin è più Berlusconiano di Berlusconi. No, prendi conto quando arrivo prima. Allora, per cui, io mi sono sempre sentito libero. E poi, ho sempre fatto fare a tutti. Io credo che non troverai un giornalista. Perché io, immagini, sai che quella è una redazione complicata, tu hai avuto a che fare con me. Un pochetto. Io non ho mai avuto nessun voto di sfiducia. Mai. Mai. Hai avuto delle cause, la Tiziana Ferrario, Maria Luisa Buzzi... Ma scusa, la Tiziana Ferrario? Ma lì c'è un problema molto semplice. Ma no, fermati un attimo. Ma non è... Io lì ho assunto tutti i precari che c'erano. 18 precari. Non scelti da me, ma da altri direttori. Probabilmente anche qualche precario che hai scelto te. Quindi non c'era nulla di politico. Quando faccio un'operazione di questo tipo, devo ringiovanire il giornale o no? Anche, diciamo, l'immagine del giornale, i conduttori. Allora che cosa faccio? Faccio l'anagrafe del video. E se scopro che Tiziana Ferrario era da 28 anni in video, mi sembra una cosa normale. Ma adesso ti sei candidato e sei stato messo capolista in Liguria, anche con qualche mormorio sul paracadutato, perché vuoi fare politica, perché aderisci a un progetto politico o perché eri rimasto disoccupato? No, prima non ero disoccupato perché, sai, faccio il direttore degli uffici di corrispondenza. Pensarai, non so, per nulla male, per alcuni versi. Però mi è stato messo di fatto una sorta di bavaglio per un anno e mezzo, con questa vicenda di cui abbiamo parlato prima. E chiaramente ti ho detto, sai, il giornalista vuole dire la sua, innanzitutto. Che cosa fa il giornalista? Dice la sua e dà la sua interpretazione dei fatti. Non avendo potuto fare in quella maniera, per un periodo, chiaramente ho cercato, ho voluto farlo in un altro... Quindi fai il senatore per fare il giornalista? Ma potrei ancora, ti ho detto, come dicevamo prima, perché te lo dico, potrei anche fare ancora il giornalista, facendo il direttore del Tg1 o altro. Il colpo di teatro non sarebbe male se ti dimettessi dal Senato poco dopo essere stato eletto, perché eletto lo sarai essendo capolista. Scusami, avviene anche il Papa che ha preso posizioni del genere, quindi io sono molto più piccolo, molto meno, molto più piccolo. Qua fermiamoci un attimo.